ciao a tutti oggi finalmente vado a evadere un'altra delle vostre tantissime richieste relative ai calzoncini all'uncinetto e pantali shorts all'uncinetto questo è un modellino molto semplice da realizzare un pochino impegnativo per quanto riguarda la lavorazione traforata però come come lavorazione poi vedrete che è abbastanza semplice però abbastanza ricercato come pantaloncino perché molto traforato molto particolare la richiesta me l'avete fatta veramente in tantissimi e quindi ho deciso appunto di esaudirla di evaderla man mano che andremo avanti poi faremo tutti i progetti che mi avete chiesto io ogni volta ve lo dico vi chiedo di scusarmi ma purtroppo potete come potete immaginare il tempo anche il tempo che ho io è sempre poco perché comunque tantissime cose da fare e cerco di accontentarvi però il più possibile bene a questo punto andiamo a vedere cosa occorre e come si realizzano i nostri bellissimi shorts all'uncinetto per realizzare i nostri sciccosissimi pantaloncini ho utilizzato questo meraviglioso filato della tessilan che è il doni 3 ed è un filato veramente ottimo per fare questo tipo di lavori perché è molto brillante è veramente bello bello ci vengono fuori veramente dei capi splendidi poi è morbidissimo una volta lavorato e che il cotone tende ad essere leggermente durino una volta finita la lavorazione invece questo rimane molto 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 morbido poi e l'ho lavorato questo filato il doni 3 l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3 poi abbiamo bisogno di un paio di forbici di questo elastico di silicone che un elastico molto trasparente che io utilizzo molto molto spesso quando faccio i miei lavori perché è appunto essendo trasparente si nasconde bene tra tra la lavorazione potete utilizzare comunque volendo anche un altro tipo di elastico ma questo ve lo consiglio perché è molto resistente costa il giusto ed è anche appunto essendo trasparente vi agevola moltissimo poi avete bisogno di un ago da lana mi avete chiesto questo tipo di ago dove si trova si trova anche questo alla testa negli attrezzi del mestiere comunque poi dopo vi metto il link un bottone in tinta è un marca punti per per aiutarvi nella lavorazione se volete marcare i punti o comunque alla fine vi servirà per l'inserimento dell'elastico bene andiamo subito a vedere come si realizzano i nostri bellissimi shorts iniziamo i i nostri pantaloncini partendo dalla catenella iniziale noi partiamo partiremo dalla vita per realizzare i nostri pantaloncini e con il nostro filato andiamo a realizzare una catenella di una volta che avremo terminato di realizzare tutte le nostre 140 catenelle andremo a lavorare a maglia alta quindi facciamo due catenelle aggiuntive saltiamo le prime tre maglie di base iniziamo con la lavorazione a maglia alta una due sino al termine della catenella iniziamo la lavorazione adesso appunto coste 11 il punto coste 11 si effettua realizzando delle maglie alte in costa davanti e in costa retro nei punti che abbiamo sotto quindi andiamo a realizzare nella prima due catenelle perché non possiamo lavorarla la prima maglia perché altrimenti verrebbe brutto il lavoro e lavoriamo alla prima due catenelle la seconda lavoriamo in costa davanti in costa retro scusate quindi entriamo nel retro della maglia carichiamo il filo sull'uncinetto passiamo dietro la lavorazione entriamo tra una maglia e l'altra così la scavalliamo entriamo tra la maglia è la successiva così prendiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia alta la costa davanti si fa al contrario quindi andiamo a prendere il filo entriamo nel punto dal davanti scavalliamo il punto sul retro dopodiché andiamo a chiudere la maglia alta lo rivediamo carichiamo il filo sull'uncinetto entriamo tra una maglia e l'altra scavalliamo la maglia e facciamo la maglia alta la costa davanti carichiamo il filo sull'uncinetto entriamo tra una maglia e l'altra e usciamo dall'altra parte dopodiché facciamo la nostra maglia alta e procediamo così per tutta la riga una volta che abbiamo terminato con tutta la riga andremo a realizzarne altre tre in tutto saranno quattro con la prima di maglia alta vi faccio vedere come lavorare sulla sulla lavorazione già effettuata quindi nella riga dopo quando voi andrete a realizzare la riga dopo andate a lavorare in costa retro dove avete la maglia all'interno vedete che qui si spinge verso l'interno la maglia questa si spinge verso l'esterno in rilievo quella che si spinge verso l'interno la lavoriamo in costa retro quella che in rilievo sul davanti la lavoriamo in costa davanti che anche molto semplice perché sono molto più visibili in questo modo le maglie il primo giro è un pochino più complesso perché abbiamo tutte maglie alte ma le maglie sulle righe successive sono estremamente semplici e andiamo e procediamo a lavorare ancora appunto tre righe in costa 11 una volta che avremo terminato con la realizzazione dei nostri quattro le nostre quattro righe appunto coste 1 e 1 andremo ad unire a cerchio la lavorazione lasciando praticamente la parte superiore della della cinturina nel nostro pantaloncino aperta poi andremo ad unirla in un secondo tempo quindi uniamo la nostra cinturina così ed entriamo nella prima catenella quindi nel primo punto andiamo a lavorare un punto scusate un giro questo punto intero a maglia bassa per uniformare la lavorazione quindi entriamo nel punto chiudiamo una maglia bassa e poi procediamo con lavorare tutte le altre maglie a maglia bassa in modo da uniformare bene tutta la lavorazione andiamo adesso ad eseguire un altro giro esattamente come prima quindi faremo un altro giro lavorando tutte le maglie basse così come abbiamo fatto prima in totale dopo aver unito faremo due righe due giri di maglia bassa iniziamo adesso con il punto ventagli e andiamo a realizzare 3 catenelle 1 2 e 3 che vanno a sostituire la prima maglia alta ne facciamo ancora 5 1 2 3 4 e 5 adesso saltiamo 3 maglie di base quindi 1 2 3 entriamo nella quarta e facciamo una maglia bassa 5 catenelle saltiamo 3 maglie di base nella quarta una maglia bassa 5 catenelle saltiamo 3 maglie di base una 2 3 e nella quarta facciamo una maglia alta e procediamo così per tutto il giro quindi 5 catenelle 2 3 4 5 catenelle saltiamo 3 maglie di base nella quarta maglia bassa e ripetiamo 1 2 3 4 5 catenelle saltiamo 3 maglie di base nella quarta una maglia bassa ora 5 catenelle saltiamo 3 maglie di base nella quarta facciamo una maglia alta 5 maglia bassa 5 maglia bassa 5 maglia alta e così sino al termine e chiudiamo con una maglia alta nell'ultima maglia di base 1 2 e qui adesso ci chiudiamo con una maglia bassissima nella nella terza catenella dal basso 1 2 3 nella terza catenella ci chiudiamo con una maglia bassissima 3 catenelle che vanno a sostituire la maglia alta più 2 e andiamo a chiudere ci con una maglia bassa all'interno dell'archetto adesso nell'archetto successivo andiamo a realizzare 8 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 magliate chiudiamo nel nell'archetto successivo con una maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa rivediamo con lavorare le 8 maglie alte nell'archetto successivo quindi una 2 3 sino 8 terminate le 8 maglie alte nuovamente archetto successivo maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto successivo maglia bassa e andiamo a lavorare nuovamente le nostre 8 maglie alte quindi nell'archetto dopo quello con la maglia alta quindi in questo archettino qui andiamo a realizzare 8 maglie alte poi facciamo nell'archetto successivo chiudiamo con una maglia bassa 5 catenelle maglia bassa nell'archetto successivo e nell'archetto successivo ancora nuovamente 8 maglie alte e procediamo così per tutto il giro chiudiamo con le 8 maglie alte entriamo in questo punto e andiamo a fare la maglia bassa poi facciamo due catenelle 1 2 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso punto adesso ci agganciamo 1 2 3 alla terza catenella di inizio giro così con una maglia bassissima procediamo con il giro successivo nel quale inizieremo con una catenella e una maglia bassa subito sotto adesso dobbiamo andare a lavorare nuovamente 8 maglie alte sopra le 8 maglie alte dell'archetto precedente però sormontate da un pippiolino quindi andremo a realizzare prima maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 catenelle andiamo alla base e chiudiamo il pippiolino con una maglia bassissima carichiamo filo sull'uncinetto seconda maglia alta secondo pippiolino 3 catenelle chiuse alla base con piccola maglia bassissima e procediamo così per tutte 8 le maglie alte nell'ultima maglia alta non facciamo il pippiolino andiamo a chiuderci nell'archetto successivo con una maglia bassa dopo di che ricominciamo quindi andiamo a realizzare la prima maglia alta la maglia alta e il pippiolino 1 2 3 catenelle chiuse alla base con una maglia bassissima e nuovamente maglia alta successiva maglia alta e pippiolino 3 catenelle chiuse alla base con una maglia bassissima e procedete così sino al terreno della riga quindi sulle 8 maglie dell'archetto andrete a fare 8 maglie alte e 7 pippiolini l'ultima maglia alta nell'ultima maglia alta il pippiolino non lo facciamo ci chiudiamo nell'archetto successivo con una maglia bassa e ricominciamo andiamo a chiudere il giro andando ad agganciarci 123 alla terza catenella con una maglia bassissima procediamo con il quarto giro iniziamo con tre catenelle 1 2 3 catenelle più 5 3 catenelle vanno a sostituire una maglia alta le 5 invece sono un archetto 1 2 3 4 5 catenelle che andremo ad agganciare al terzo pippiolino 1 2 e 3 pippiolini entriamo dentro il pippiolino e agganciamo con una maglia bassa altre 5 catenelle 2 3 4 5 e saltiamo un pippiolino e ci andiamo ad agganciare quello successivo quindi questo lo saltiamo e andiamo qui all'interno sempre con una maglia bassa 5 catenelle 2 3 4 5 che andremo ad agganciare in questo punto saltiamo gli ultimi due pippiolini e in mezzo proprio qui fra un archetto e l'altro in questo punto noi andremo a fare la maglia alta 1 2 3 4 5 catenelle saltiamo due pippiolini nel terzo ci inseriamo con la maglia alta con la maglia bassa scusatemi due maglie basse una maglia alta 5 catenelle 2 3 4 5 questa volta ne saltiamo 1 entriamo nel successivo maglia bassa adesso 5 catenelle 2 3 4 5 catenelle saltiamo gli ultimi due e andiamo nel centro qui in questa maglia qui facciamo una maglia alta e procediamo così per tutto il giro quindi 5 catenelle saltiamo 2 maglia bassa 5 catenelle saltiamo 1 maglia bassa 5 catenelle saltiamo 2 maglia alta terminiamo il giro saltiamo le ultime due pippiolini e andiamo a realizzare una maglia alta nella nell'ultima maglia poi ci agganciamo alla terza delle catenelle che abbiamo fatto inizio giro con una maglia bassissima procediamo adesso con il giro successivo e andiamo praticamente a ricominciare a fare la base del ventaglietto come abbiamo fatto prima da ora in poi lavoreremo sempre nello stesso modo quindi iniziamo con tre catenelle una due tre catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta due catenelle ulteriori e facciamo la maglia bassa subito sotto nel primo archetto adesso sopra il ventaglio precedente e realizziamo un altro quindi andiamo a realizzare nell'archetto successivo le nostre otto maglie alte una due tre quattro 5 6 7 e 8 adesso ci agganciamo all'archetto successivo con una maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa archetto successivo 8 maglie alte quindi una sino 8 terminate le otto maglie alte archetto successivo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa e procediamo così sino al termine del giro quindi nell'archetto quello centrale quello che sa proprio sopra la il ventaglietto al centro del ventaglietto precedente faremo le otto maglie alte maglia bassa 5 catenelle maglia bassa 8 maglie alte nell'archetto centrale sino al termine del giro una volta che avremo terminato con l'ultimo ventaglietto di otto maglie alte andremo a realizzare due catenelle e ci chiudiamo con una maglia alta nell'ultima maglia del giro così poi ci agganciamo alla prima delle tre all'ultima delle tre catenelle realizzate all'inizio giro con una maglia bassissima iniziamo il giro con una catenella e una maglia bassa all'interno dell'archetto così poi andiamo a lavorare direttamente sulle maglie alte precedenti e non a fare una maglia alta su ogni maglia alta precedente e 7 pipiolini quindi nelle prime sette maglie le prime sette maglie alte saranno sormontate dal picco 123 catenelle chiusa la base con una maglia bassissima così e lo fate per ognuna delle maglie una ovviamente l'ultima no quindi dovete fare sette maglie alte sormontate dal pipiolino per sette volte poi fate la maglia alta senza pipiolino come dicevamo l'ultima ma l'ultima maglia alta la realizziamo senza picco facciamo una maglia bassa nell'archetto successivo e andiamo direttamente a lavorare sulle altre maglie alte quindi entriamo nella prima maglia alta punto picco o pipiolino all'italiana così e andiamo a realizzare tutto giro in questo modo e procediamo con la lavorazione di questi tre di giri quindi punto archetti punto ventaglietti semplici e punto ventaglietti con i picco sopra per tanti giri fino a quando non arriverete alla lunghezza che volete del vostro pantaloncino prima del cavallo quando arrivate al cavallo vi fermate e andiamo a realizzare le gambe io lo farò un pochino più lungo perché voglio che la cinturina arrivi in vita se voi volete magari che il vostro pantaloncino si appoggi sui fianchi farete meno giri una volta che avremo terminato di realizzare tanti moduli quindi tanti motivi quanti se ne occorreranno per la lunghezza dei nostri calzoncini provvederemo a dividere a metà il lavoro e come facciamo a dividere a metà il lavoro è semplicissimo noi abbiamo sei moduli poi potete decidere se dividerlo con la righetta che sia sul retro alla riga e la chiusura della della diciamo della vita sul dietro cosa che farò io oppure potete decidere anche di farlo sul fianco però onestamente mi piace di più sul dietro poi questa è una vostra scelta perché la riga tina da proprio delinea proprio il pantaloncino mi piaceva proprio l'idea adesso prendete fatte la divisione esatta noi abbiamo 12 moduli quindi sei moduli per gamba quindi tre moduli per parte sovrapponete i moduli e avete esattamente il centro del vostro pantaloncino adesso siccome il nostro punto si sviluppa su 12 maglie andiamo a fare 12 catenelle una due tre quattro sino a 12 una volta che avrete terminato di realizzare le vostre 12 catenelle andrete ad agganciare esattamente nel punto di fronte a a voi quindi agganciate con una maglia bassa e procedete con la lavorazione adesso voltiamo il nostro pantaloncino in modo da lavorare sempre nello stesso verso quindi da destra verso sinistra e andiamo a proseguire la lavorazione esattamente così come l'abbiamo lasciata quindi noi adesso abbiamo terminato di realizzare il ventaglietto con il punto pippiolini dovremo andare nuovamente a fare il giro con le catenelle giro appunto ad archetti quindi facciamo una due tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta 5 catenelle 2 3 4 5 catenelle che andremo a fermare saltando due pipiolini 5 catenelle saltiamo un pipiolino ed entriamo nel pipiolino seguente con una maglia bassa sempre 1 2 3 4 5 catenelle e ci andiamo a fermare nel centro tra i due ventagli con la maglia alta esattamente così come abbiamo fatto prima quando arriveremo in fondo la lavorazione la proseguiremo sulla catenella comunque lo facciamo insieme così lo vediamo insieme quindi proseguite a lavorare sino ad arrivare appunto alla catenella siamo arrivati alle catenelle adesso dobbiamo andare a lavorare nuovamente sulle catenelle così come abbiamo lavorato nella prima riga nella riga di base della catenella iniziale quindi andremo a lavorare sempre cinque catenelle 2 3 4 5 abbiamo chiuso con la maglia alta abbiamo chiuso con la catenella saltando le ultime due ultimi pipiolini e abbiamo chiuso con la maglia alta quindi adesso facciamo la catenella di 5 saltiamo 3 maglie di base 1 2 3 e nella quarta andiamo a realizzare la maglia bassa nuovamente 5 catenelle 2 3 4 5 catenelle saltiamo 3 maglie di base 1 2 3 e nella maglia successiva realizziamo la maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle e la maglia alta la realizziamo in fondo quindi qui realizzeremo la maglia alta praticamente nella nella maglia da dove siamo partite adesso procediamo con la lavorazione normalmente quindi adesso andremo a fare il giro quello che inizia con 3 catenelle più 2 1 2 3 più 2 catenelle andiamo a fermarci nell'archetto con una maglia bassa adesso nell'archetto centrale quello del dove c'è un solo pipiolino andremo a fare le nostre 8 maglie alte 1 2 3 sino a 8 e procediamo così come abbiamo fatto sino adesso da ora in poi deciderete voi quanto sarà lungo il vostro la vostra gamba la gamba del vostro pantaloncino io presumo che la farò lunga per due o tre moduli realizzate questa gamba con tanti moduli quanti ve ne occorrono e fate la stessa cosa dall'altra parte come vi dicevo una volta che avrete terminato io poi ho deciso di fare solo due moduli perché li voglio molto corti una volta che avrete terminato con la lunghezza della gamba del gambalino fate una catenella aggiuntiva tirate tagliate e fermate il filo adesso procedete con la parte opposta quindi ricominciate da capo partendo dalla parte opposta e facendo un giro contrario siate inserendo l'uncinetto nell'ultima maglia nella prima del nuovo giro fate 3 catenelle più 5 1 2 3 4 e 5 andrete ad agganciarvi saltando i primi due pipiolini esattamente così come abbiamo fatto prima 1 2 3 4 5 saltiamo 1 entriamo nell'altro esattamente come prima e procedete con le riconi con i giri e ne farete tanti quanti ne avete fatto per il gambale precedente quando vi ritroverete nella parte del cavallo quindi dalla catenella che abbiamo fatto di unione andrete a lavorare ovviamente nelle costine abbiamo lavorato nella parte nella nella gamba di andata nella prima gamba abbiamo lavorato nella ma nella maglia adesso lavoreremo nella costina ne andremo esattamente a fare le stesse cose che abbiamo fatto lavorando al contrario quindi la costina abbiamo terminato qui con la maglia alta dopo le due l'aver saltato gli ultimi due pipiolini in questo caso nuovamente andremo a lavorare 5 catenelle 2 3 4 5 catenelle saltiamo 1 2 3 di base nella quarta entriamo e facciamo la maglia bassa così come abbiamo fatto prima 1 2 3 4 5 saltiamo 1 2 3 e nella quarta entriamo e facciamo un'altra maglia bassa 1 2 3 4 5 e andiamo a fare una maglia alta nell'ultima maglia praticamente di base qui andiamo a chiuderci con una maglia alta a chiudere tutto il giro con una maglia alta ci agganciamo alla terza catenella di inizio giro 1 2 3 quella che sostituisce la maglia alta così e abbiamo terminato il giro abbiamo chiuso giro adesso possiamo ricominciare e proseguiamo nello stesso identico modo facendo tanti moduli quanti ne abbiamo fatto per l'altro gambale una volta terminate entrambe le gambe dei vostri pantaloncini saremo pressoché terminati andiamo prendere un ago da lana per andare a fare sparire i fili di lavorazione lo faccio vedere con uno poi ve lo fate con tutti inserite il filo nel lago poi lo portate dalla parte del rovescio del lavoro così e andate a farlo sparire attraverso i punti lavorati quindi passate lateralmente scendete attraverso una maglia così e poi andate ad inserire l'ago nella base del ventaglio dove ci sono i punti più fitti in questo punto così e poi tirate tirate un po anche il ventaglietto modo a distribuire il filo e poi tagliate via e lo fate con tutti i fili di lavorazione una volta che avrete terminato con i fili di lavorazione prendete un altro pezzettino di filo se utilizzate il doni 3 quello che io ho utilizzato per fare questo un netto e mezzo sono perfetti perché questo è quello che rimane di un netto e mezzo quindi tre gomitoli di doni 3 fate i pantaloncini prendete il vostro uncinetto entrate lateralmente nella nella cinturina è andata a fare un'altra quindi entrate nella prima maglia fate una due tre quattro cinque poi dipende da quante grosse il vostro bottone io metto un bottone bello grande vedete un bottone bello grande e quindi faccio un'asola abbastanza gran ampia mi aggancio saltando 3 maglie salto 3 maglie mi aggancio e lascio l'asola così mi aggancio con una maglia bassissima poi volto e vado a riempire tutto il tutta l'asola maglia bassa quindi faccio tante maglie basse per ricoprire bene tutta l'asola una due tre quattro quindi entro all'interno dell'asola e realizzata avvolgo praticamente con le maglie basse quando sono arrivato dall'altra parte rientro nel punto faccio un'altra maglia bassissima tiro taglio fermo e poi faccio a sparire così come ho fatto con gli altri fili poi prendete il filato e lo girate con le dita dalla parte contraria alla sua torsione naturale prendete un filo e lo tirate così ne prendete un filo che sia lungo quanto una gugliatina di filo normale così poi tagliate prendete lago inserite il filo nel lago andate ad attaccare il bottone dall'altra parte della cinturina prima di attaccarlo controllate che la chiusura sia a posto cioè che che ci passi bene attraverso l'asola e poi attaccato il bottone dalla parte esattamente opposta entrate con lago e attaccate come si attacca un bottone normalmente fate un bel po di passate in modo da 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 renderlo bello fisso il bottone da non perderlo una volta che avremo attaccato il bottone abbiamo fatto sparire i fili di lavorazione prendiamo l'elastico lago della lana o il passanasto in questo caso va benissimo anche questo ago da lana perché ha la curva molto larga e andiamo a prendere un po di elastico e lo doppiamo l'elastico questo trasparente e lo raddoppiamo così tagliamo e annodiamo l'estremità in fondo così modo da renderlo bello bello resistente apriamo la cinturina dalla parte interna entriamo nella parte superiore della cinturina nelle costine quelle che abbiamo in rilievo dalla parte interna in questo modo così se prendiamo una spirina un marca punti di questi e blocchiamo l'elastico in modo da poter lavorare tranquillamente senza paura di perdere l'elastico e andiamo a passare il nostro elastico per tutta la costina superiore questa qui esterna così tutto intorno alla cinturina se credete la potete passare anche due volte nel senso se pensate che possa essere più solida passate sia qui che qui potete fare due o tre due o tre giri a seconda di quanto pensate che sia resistente il vostro elastico questo classico lo uso per fare i bijoux e so che è perfettamente resistente molto molto resistente e quindi farò una o due passate ora poi vedo una volta che avrete terminato di passare l'elastico da tutte le parti andrete a tagliarne a tagliare uno dei due tagliare in mezzo praticamente e poi fate passare nuovamente l'elastico intorno così dopodiché andate a fare un bel po di nodini quindi un bel po di nodi in modo da fermare bene l'elastichino io ne faccio veramente un bel po in modo che poi non si dissi poi prendete le forbici e accorciate non serve che tagliate a filo basta che accorciate tanto questo è trasparente poi è morbido se ne si dicono e non dà proprio fastidio e lo fate anche con l'altro elastico con l'altra parte dell'elastico quindi sganciate il marca punti è andata a fare la stessa identica cosa con questa parte poi distribuite bene l'elastico tutto intorno all'ordino e vola e vostri calzoncini splendidi sono terminati ed eccoli qui una volta che li avrete determinati come si presentano i vostri pantaloncini sono veramente molto 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 carini poi indossati sono veramente uno spettacolo mi dispiace che non riesco a farli vedere sul manichino perché purtroppo questo manichino non permette non mi permette di farli indossare i pantaloni poi quando riesco me ne procurerò uno in modo che che possiate vedere anche le creazioni che noi facciamo poi per quanto riguarda gonne e pantaloni però effettivamente si vedono e quanto sono carini sono molto ovvio sono molto trasparenti quindi vi conviene indossarli con una foderina sotto oppure con calzoncino dello stesso colore di un colore a contrasto che sarebbe anche carino magari un giallo più vivo se utilizzate anche voi il giallo bene a questo punto l'avrete capito il nostro tutorial è terminato io spero con questo di aver accontentato veramente le tantissime amiche che mi hanno chiesto la realizzazione di un paio di shorts all'uncinetto io purtroppo non ho potuto fare il pattern che mi avete mandato perché me lo avete mandato veramente in tante quella 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 immagine però quello è un pattern a pagamento quindi non ho potuto farvi quello però vi ho fatto un paio di pantaloncini che sono molto molto carini comunque sono belli traforati e sono originali perché questi qui sono una cosina un po diversa da quelli che si vedono solitamente poi magari ne facciamo anche altri tipi possiamo farne anche qualcuno un pochino più hippie con qualche piastrellina non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito vi aspetto tutti sul gruppo di facebook gli amici dell'angolo di chris vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial